Mi chiamo Wilfredo Doc. Da circa tre anni lavoro al presidio sanitario di Langol nel distretto di Goul. La mattina, quando mi sveglio, pensare ai miei pazienti mi dà la carica e la motivazione per andare al lavoro. Ai pazienti con i bisogni più urgenti prestiamo cure immediate. A tutti i pazienti, oltre alle cure necessarie per migliorare le loro condizioni di salute, offriamo anche un servizio di educazione sanitaria. Prima che AVSI iniziasse ad offrirci il proprio supporto, qui la situazione era molto difficile. Il numero dei casi di malaria era elevatissimo. Inoltre, le persone avevano paura a fare i test per l'HIV e in molti non venivano nemmeno a ritirare i risultati dell'esame. L'arrivo di AVSI è stato molto importante per noi. In primo luogo ci ha aiutato a sviluppare il dialogo con le comunità locali. Oggi, infatti, ci incontriamo con i leader e i membri delle varie comunità e con loro discutiamo dei problemi di salute che li riguardano. Pieghiamo alle persone come sottoporsi al test per l'HIV. Incoraggiamo chi è affetto dal virus a vivere la propria condizione in maniera più positiva. Inoltre, in accordo con i leader comunitari, valutiamo le strategie per prevenire e ridurre la trasmissione della malaria nelle aree più colpite. AVSI ci supporta anche attraverso la formazione con dei training, per esempio con corsi sulla prevenzione e sulla lotta all'HIV. AVSI ci ha anche aiutato ad attivare i servizi di salute per i bambini e gli adolescenti e ci ha fornito competenze per il trattamento di pazienti nelle fasce di età più giovani. Oggi, infatti, siamo in grado di rispondere efficacemente ai loro bisogni e, grazie al training offerto da AVSI, abbiamo acquisito maggiori conoscenze e competenze di carattere tecnico. Il risultato più importante che abbiamo raggiunto a livello locale è stato l'aumento delle attività per la prevenzione e per il controllo della malaria. Infatti, quest'anno, il numero dei casi è diminuito rispetto all'anno precedente. Si è anche registrata una diminuzione dei casi di infezione d'HIV e siamo inoltre riusciti ad individuare e a curare più malati di tubercolosi. Alcuni hanno iniziato la terapia, altri l'hanno già portata a termine e altri ancora, invece, si sottoporranno presto alle cure necessarie. AVSI è stato ed è il nostro partner più importante e speriamo che continui a supportarci per poterci ancora migliorare e per continuare ad aiutare gli altri. Grazie a tutti!